Quarta corsa premio Camilla Ines, un miglio per anziani di categoria D, sono in sette al vie, Superba Parra, Ramona Cappadete, Robbenkaff, Roger Waters, Rugito GSM, Revolving e Subsonica Griff, tutti in prima fila. Con Roger Waters che come di consueto parte con prudenza mentre c'è l'errore di Robbenkaff, allo stacco della macchina lottano Ramona Cappadete e Rugito GSM che di slancio tende a passare, poi rientra velocissima lungo la corda Superba Parra che sembrava superata dai due avversari, Superba Parra in vantaggio su Rugito GSM che rimane all'esterno di Ramona Cappadete, poi allargo già in azione in terza ruota Roger Waters, quindi ancora in coda c'è Subsonica Griff preceduta da Revolving che ha rinunciato al lancio. Ramona Cappadete previene le mosse di Roger Waters e scavalca Superba Parra, Roger Waters va all'attacco di Ramona Cappadete dopo 600 metri in 44 e 2. Ramona Cappadete ha deciso di opporsi a Roger Waters che rimane all'esterno, seguono Superba Parra, ancora Revolving, Subsonica Griff e Rugito GSM che è stato costretto a ripiegare in coda. Lotta violenta tra Ramona Cappadete e Roger Waters che preme all'esterno dell'avversario, agli altri a contatto il chilometro che va via in 1.13.3 sul mio cronometro. con Roger Waters che incalza Ramona Cappadete che reagisce a contatto Superba Parra, ha spostato la corda Revolving che finora non ha speso niente perché è rimasta fuori anche dal lancio. Infatti scatta con azione molto incisiva in terza ruota, terza ruota lungo la quale si muove anche Subsonica Griff anticipata però da Superba Parra con Roger Waters che prevale su Ramona Cappadete ma deve lasciare il passo a Revolving e poi anche a Superba Parra, quindi Subsonica Griff con Revolving che ora è in vantaggio ma sotto l'attacco di Superba Parra, poi Roger Waters che ha stracorso ma è solo terzo sul palo, Superba Parra che stampa Revolving con Roger Waters terzo, Subsonica Griff al quarto posto e quindi 1.6.4. l'arrivo ufficioso della quarta di capannelle Roger Waters ha seminato ma Revolving e soprattutto Superba Parra con Mario Minopoli Junior hanno raccolto 1.57.7 sul mio cronometro che significa media di 1.13.6 per Superba Parra numero 1 davanti a Revolving numero 6 Roger Waters numero 4 questo l'arrivo ufficioso della quarta di capannelle. l'arrivo ufficioso della quarta di capannelle.